Musica 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 Posso sicuramente dire che lo sport diciamo che è la seconda scuola per un atleta perché comunque serve a farti integrare con la squadra ci sono valori di sacrificio, di passione, di dedizione ma soprattutto di compattezza e di unione che sono quelli che fanno la differenza quando una squadra poi si trova a vincere certe partite a superare certi momenti quindi si combaciano perfettamente questi due valori e sono contento e onorato di essere qui questa sera insieme a tanti altri tra cui Clemente Russo Ah beh io dico sempre come dico anche i miei compagni attuali che se non c'hai una passione se non c'hai quel sogno che trovi dentro di te è difficile andare avanti nello sport perché comunque puoi entrare saldere sul treno ma poi rimanerci è difficile e devi avere questa fiamma e questa passione dentro per cui oltre alla fortuna di trovare negli allenatori o negli insegnanti quando uno ancora bambino che fa nuoto e dei secondi genitori che riescono a farli appassionare ancora di più a questo sport che può essere sia il calcio come la pallamoto come anche il judo se parlo di Clemente e tutto comunque parte alla base di questa passione e della buona volontà poi sfortunatamente comunque la tecnologia oggi riesce a darti una mano ci sono i pro e i contro ma bisogna essere intelligenti e sapersi adattare alle situazioni